amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati grazie a tutti coloro che hanno già sottoscritto il preabbonamento sono gli ultimissimi giorni per acquistare il preabbonamento a condizioni vantaggiosi che ci permette di far partire il nostro nuovo progetto editoriale il progetto editoriale del vaso di pandora per preabbonarvi avete tempo fino al 31 marzo quindi grazie a tutti quelli che lo sottoscriveranno in questi giorni per attivarlo e per conoscere cosa realizzeremo in base a quanti di voi si abbonaranno cliccate il link che trovate nel testo in descrizione e qui sotto grazie ancora da parte mia e di gabriele salmino il nostro nuovo direttore responsabile benvenuto veniamo alla puntata di oggi do il benvenuto in collegamento dalla florida roberto mazzoni buongiorno a tutti bentrovati ben ritrovato roberto allora il tema di oggi direi è la virata a partire dagli stati uniti in merito al conflitto russo ucraino sull'ucraina in particolare direi che partiamo da questo è il tema è il tema è l'analisi da affrontare oggi certo certo allora innanzitutto vorrei fare una premessa che ha a che fare un po con la situazione generale eric kissinger negli anni 60 se non sbaglio disse privatamente una famosa frase che era essere avversari stati uniti può essere pericoloso essere amici dei stati uniti è fatale quindi questo tema questo questo video potrebbe chiamarsi amicizie pericolose nel senso che hai già dato il suggerimento per il titolo ecco qua allora noi tutti sappiamo qual è l'evoluzione della guerra in ucraina la guerra in ucraina sta andando male per gli ucraini sono ormai ridotti al lumicino con gli uomini hanno ancora risorse militari sufficienti per resistere ancora per qualche mese magari a meno che ci siano delle rotture importanti su alcuni fronti però la direzione ormai è segnata gli ucraini perderanno questo conflitto e probabilmente si sposteranno in una regime di guerriglia quindi l'ucraina potrebbe diventare un nuovo afghanistan dove roberto scusami perché qui c'è molta preoccupazione no in in europa in italia eccetera secondo te quindi mi sembra di capire da questa disamina da oltreoceano che una escalation fatale non dovrebbe verificarsi da come da come ti sento se non per il momento no per il momento no a meno che i francesi effettivamente mandino truppe in ucraina se i francesi dovessero mandare truppe in ucraina è praticamente certo che i userebbero delle testate nucleari tattiche quindi testate nucleari con potenza ridotta con una capacità di istruzione limitata non quelle di nagasaki hiroshima credo che siano circa un decimo rispetto alle bombe usate a nagasaki hiroshima però sufficienti a decisamente fungere da deterrenti anche perché a quel punto sarebbe una chiara indicazione del fatto che la nato vuole uno scontro diretto i russi sono consapevoli del fatto che uno sconto diretto potrebbe essere per loro pericoloso rischioso al punto di perdere terreno perdere anche una guerra e quindi in quel caso la loro dottrina nucleare prevede automaticamente l'uso di testate nucleari tattiche sentivo un'esperta in materia che è una cittadina ex russa che si è trasferita in stati uniti che è sostanzialmente lavora per l'intelligence militare americana che letto molto chiaramente tra l'altro che russi arrivano a queste considerazioni non sulla base delle decisioni putin o qualcosa del genere come ci dicono sulla propaganda ma hanno un vero e proprio software che elabora tutta una serie di parametri e di segnalazioni e di situazioni e quando arrivi a una soglia critica automaticamente fa scattare il regime d'uso delle delle nucleari tattiche perché a quel punto userebbero le nucleari tattiche come deterrente finale della serie questo basta ma questa è la linea rossa per noi non si va oltre da qui in avanti c'è la distruzione reciproca quindi se i francesi non andranno in ucraina non andranno in ucraina in con una diciamo una struttura militare organizzata quindi dei battaglioni strutturati per occupare territorio tenere il territorio non c'è problema i russi continueranno a bombardare edifici dove ci sono i vari mercenari o i vari ispettori consulenti militari della nato e considerano ucciderli ma questo sarà una cosa che resterà a quel livello non c'è non c'è un escalation in realtà l'escalation sarà sul fronte terroristico sicuramente e questo già ce l'aveva fatto capire vittoria nulla prima andarsene già l'abbiamo visto nella prassi utilizzata dagli ucraini durante tutta la guerra nel senso che quando hanno dei dei rovesci militari importanti ricorrono ad attacchi terroristici confronti di obiettivi civili finora hanno prevalentemente in passato preso di mira il donbass però più recentemente abbiamo visto delle operazioni fatte direttamente in territorio russo nelle due regioni confinanti con l'ucraina resta da vedere chi sono i responsabili dell'attentato a mosca però è evidente che con l'attentato di mosca si è passato in una nuova fase quindi la nuova fase gli ucraini sono consapevoli di avere perso la guerra la nato è consapevole di non poter impedire ai russi di mantenere le attuali posizioni finire l'occupazione del donbass finire l'occupazione di zaporoja e di kerson che sono le altre due regioni altri due oblast che sono stati annessi con il referendum dai russi e dei quali i russi devono ancora recuperare due città principali zaporoja e che son che sono a cavallo del fiume nipper quindi questo è sicuramente l'obiettivo scontato su cui russi si stanno muovendo incrementalmente lentamente ma costantemente e però a questo punto i russi avevano già fatto una dichiarazione prima dell'attentato in cui dicevano che attraverso il portavoce di putin gli obiettivi iniziali della quella che era l'operazione militare speciale era ormai superati vale a dire i russi non si accontentano più di demilitarizzare di denazificare l'ucraina di trasformare l'ucraina in una nazione neutrale ma a questo punto ritengono indispensabile rimuovere completamente il governo di chiev l'attuale stato ucraino non è per loro non accettabile avere uno stato che abbia tra i propri obiettivi dichiarati la riconquista della crimea e vi ricordo che prima del lancio dell'operazione speciale russa zelensky aveva pubblicato un decreto in cui dichiarava che era un obiettivo ufficiale per l'ucraina riconquistare la crimea quindi questo vuol dire che per loro i russi non è più neanche accettabile che l'ucraina sopravviva come stato che poi vogliono occupare l'ucraina dell'ovest è improbabile perché sarebbe un problema serio soprattutto in termini di guerriglia perché già in passato hanno avuto un'esperienza in tal senso all'inizio della guerra fredda abbiamo visto diverse ribellioni armate in quell'area e nell'area del baltico delle piccole nazioni baltiche contro i sovietici finanziate dall'occidente che poi sovietici sono riusciti a spegnere però capiscono benissimo che sarebbe un grosso mal di testa quindi quello che loro faranno sarà ormai quasi certo prenderanno odessa quindi chiuderanno completamente l'ucraina l'accesso al mare quindi questo sostanzialmente ucciderà dal punto di vista economico l'ucraina e poi prenderanno kharkiv che a nord est per garantirsi un buffer maggiore nei confronti di eventuali attacchi appunto terroristici o diciamo di guerriglia sul territorio russo e comunque occupando dei territori che sono storicamente russi sono stati storicamente russi che hanno comunque una presenza importante di popolazione russa di origine russa di lingua russa quindi che si sente legata alla russia come come nazione d'origine di questo direi che è la direzione dell'attuale guerra fisica cinetica il problema allora problema che abbiamo in questa questa situazione che per i britannici questo non è assolutamente accettabile per i francesi non è assolutamente accettabile per i tedeschi non è chiaro quale sia la situazione peschi stanno frenando apparentemente però sono coinvolti fino fino al collo di certo i francesi sono inviperiti perché stanno perdendo il controllo in africa quindi tutte le ex colonie su cui avevano sostanzialmente mantenuto ancora controllo coloniale se ne stanno andando o se ne sono andate e questo significa un grosso problema per l'economia francese e britannici non possono soltanto tollerare che russi possono vincere questo per ragioni storiche che risalgono ancora all'ottocento quindi quello che succede è che dagli stati uniti ci si rende conto che in realtà l'obiettivo che gli stati uniti si prefiggevano è stato raggiunto e mi rifaccio a questo a un rapporto pubblicato dalla rand corporation abbiamo già parlato ricordate è un grosso think tank vale dire un gruppo di esperti che lavora per il pentagono e che di fatto traccia le strategie che poi vengono seguite dai vari politici e dai vari militari e questo rapporto da roberto ricordo ancora un anno e mezzo fa circa suscitando non poche anche polemiche anche oltretutto non poche polemiche infatti allora questo rapporto ufficiale ce l'ho qui sul mio monitor può vedere chiunque si intitola extending russia competing for advantageous ground quindi stand in russia vuol dire non estendere la russia non è quella l'idea che se magari il risultato poi sarà quello e se in inglese vuol dire fa sì che la russia faccia il passo più lungo della gamba quindi fa sì che la russia sia coinvolta un po come è successo in afghanistan in una guerra che poi la ne drena le risorse economiche questa è la logica e quindi competere per territorio vantaggioso e per capire qual è questo territorio vantaggioso bisogna andare a vedere questo all'interno di questo rapporto sono 354 pagine quindi non è una è un memo una lettera di presentazione quindi non ve lo leggo tutto perché sennò ci verrebbero parecchie ore però prendiamo giusto qualche titolo di capitolo che ci dà un'idea no di cosa stiamo parlando effetto e dici e dice capitolo capitolo 3 misura quindi azione da fare numero 1 ridurre le esportazioni di petrolio si va beh quello e questo indirizzato a chi c'è chi è che importa petrolio dalla russia eh certo naturalmente per via indiretta l'europa l'europa esattamente per via indiretta però non più per via diretta ovviamente questo questo grazie grazie alle alle lungiviranti sanzioni voglio dire esatto infatti sono previste sono previste anche queste ridurre l'esportazione di gas naturale e ridurre l'espansione delle condutture i gasdotti nostri in due nostri in uno ok questi sono obiettivi strategici imporre sanzioni e poi facilitare la fuga di cervelli dalla russia fornire aiuto letale all'ucraina quindi armi e siamo nel capitolo 4 sostenere i ribelli siriani quindi attenzione no stiamo già allargando il campo l'ucraina è un è una componente di un campo di battaglia più vasto che vede il medio oriente in ruolo determinante infatti vediamo che mentre la guerra in ucraina si sta spegnendo si accende il conflitto in medio oriente per comunque l'obiettivo è ridurre l'esportazione di petrolio e ridurre l'esportazione gas naturale con il blocco energetico poi dopo promuovere un cambiamento di regime in bielorussia promuovere tensioni nel sud del caucaso qui ci spostiamo nel caucaso ridurre l'influenza russia nell'asia centrale dove vengono i cosiddetti terroristi che hanno fatto l'attentato a mosca nell'asia centrale terroristi che tra l'altro fanno un attentato nel periodo del ramadan che non si è mai visto che fugono invece di farci uccidere che non si è mai visto che si fanno fotografare bendati non sappiamo chi sono quella che ha fatto la foto sotto uno striscione arabo dell'isis usando alzando la mano sinistra che non si fa mai un terrorista non farebbe mai terrorista che sta per andare al diciamo a immolarsi per la causa alza sempre la mano destra questo è una regola fissa diciamo chi ha l'agenzia di pubbliche relazioni che preparato tutto questo spettacolo non ha ricevuto le istruzioni corrette dopodiché abbiamo sfidare la presenza russa in moldavia nella moldavia è un prossimo obiettivo di tensione e dopodiché abbiamo tutta una serie di altre attività che riguardano lo sviluppo della nato in svezia e in finlandia era già previsto è proprio cioè è proprio un riassunto strategico roberto di quando è questo documento 2019 2019 sì e questo tra l'altro in questo documento si prevede che probabilmente tra le conseguenze attese e sfortunate ci sarà il fatto che gli ucraini perderanno terreno quindi una parte del territorio ucraini avrebbe conquistato i russi quindi l'esito diciamo attuale della guerra era stato previsto nella rand corporation c'era un corporation nel 2019 quindi molto prima che la guerra iniziasse aveva già delineato quello che era la strategia e la strategia è fondamentalmente bloccare il flusso di energia in uscita dalla russia e l'uscita dagli alleati russi gli alleati russi comprendono l'iran naturalmente sicuramente la siria sicuramente e poi in qualche modo a questo punto anche l'avessodita perché ricordo che l'avessodita fa parte di brics plus ora e sì quindi il blocco della del flusso energetico diretto dove si era chiaramente in territorio il campo di battaglia l'europa il nuovo afghanistan e l'europa e in questo in questo scenario si si integra una uno scenario più vasto che è stato riassunto da un diciamo un ricercatore geopolitico americano oltre che investitore internazionale molto simpatico si chiama nick jambruno che ha preparato un report a sua volta basandosi in parte su questi vari documenti e sulle sue osservazioni in cui lui sostiene che sostanzialmente siamo già nella terza guerra mondiale solo che questa terza guerra mondiale non vedrà per lo meno per lungo tempo un confronto diretto tra cina russia e stati uniti perché questo porterebbe a un conflitto nucleare e quindi sarebbe la fine di tutto e di tutti ma prevede una guerra su sette fronti contemporanei continuata e con varie escalation sui vari fronti a seconda di quello che è la situazione di quello che ha indicato e lui definisce appunto questi sette territori allora il primo di questi è il territorio finanziario le sanzioni il blocco del sistema swift per i russi quindi il sistema di pagamento internazionale di collegamento interbanca ok questo già avvenuto è stato fatto e questo vede la nato e compagnia in vantaggio al momento perché comunque hanno controllo di quel sistema per noi sappiamo che brics sta costruendo usando le cbdc le central bank digital currencies quindi le valute emesse dalle banche centrali digitali controllate centralmente da russia cina brasilia india quindi tutti i vari paesi brics per creare appunto una specie di nodo di scambio interconnesso che permetta di evitare brics si evitare suetta sappiamo anche che svilta ha annunciato che entrò al massimo 12 mesi avranno una versione analoga quindi avranno un'infrastruttura per l'euro digitale predisposta per tutto il sistema internazionale in cui si potrà innestare anche il dollaro naturalmente il dollaro tuttavia si investerà in modalità diverse non entriamo adesso nel dettaglio di questa cosa avremo modo anche di riparlarne magari esatto quindi questo è il primo fronte su questo fronte per il momento la nato è leggermente in vantaggio però sta perdendo rapidamente questo vantaggio perché dall'altra parte stanno costruendo un sistema alternativo e il sistema che stanno costruendo per resistere al sistema alternativo farà sì che praticamente l'eurozona verrà strangolata questo è quello che io prevedo perché in pratica tutto verrà concentrato nelle mani di pochissimi pochissimi istituti di credito che controlleranno tutto il flusso di contanti sarà estremamente limitato e probabilmente nell'eurozona si perderà anche controllo di gran parte dei conti correnti da parte dei singoli individui poi vedremo quale sarà l'evoluzione però questa direzione anche perché parallelamente da bruxelles ci dicono la situazione in ucraina è grave dobbiamo prepararci dobbiamo riarmarci no armiamoci partite e quindi dobbiamo ricostruire un'industria militare dobbiamo riportarci ai livelli che ci permettono di difenderci da soli eccetera eccetera e gli americani sono sicuramente d'accordo al fatto che gli europei si riarmino a condizione che comprino le armi dagli stati uniti non sono assolutamente favorevoli al fatto che costruiscono invece un'industria pesante capace di sostenere la costruzione di armi locale in questo senso rientra la deindustrializzazione della germania per gli stati uniti il fatto che la germania venga di industrializzata perda l'industria pesante è un obiettivo strategico mi sembra evidente perché nel momento in cui la la nato la nato sul fronte europeo dice dobbiamo difenderci dai russi russi stanno arrivando dobbiamo prepararci riarmarci la posizione statunitici va benissimo siamo d'accordo per noi il discorso ucraino ormai abbastanza finito vediamo che abbiamo ottenuto quello che volevamo adesso ci spostiamo nel medio oriente il nostro obiettivo comunque rimane taiwan comunque il confronto con la cina perché la cina è il vero avversario e quindi nel momento in cui la nato spinta dai francesi spinta dai tedeschi in questo caso spinta dai britannici vuole ricostruire una propria industria capace di produrre in grande quantità armamenti pesanti gli stati uniti faranno tutto per ostacolarlo questo è scontato perché se no ci crederebbe un terzo polo con cui potrebbe trovarsi in guerra domani e infatti diranno e stanno già dicendo per esempio trump che potrebbe essere il prossimo presidente vedremo ha detto ha corretto un po il tiro o meglio ha chiarito la sua posizione ha detto a noi non sono contrario alla nato la nato può restare benissimo io sono 100 per cento fuori nato a condizione che pagate voi poi certo si è ok quindi questo è il fronte poi c'è fronte economico questo fronte finanziario economico invece il controllo del flusso del petrolio del gas naturale delle materie prime quindi il blocco di tutte le materie necessarie per la produzione e in questo caso brics sono in grande vantaggio blocco anche delle delle rotte di navigazione strategiche quindi in questo caso vediamo brics ha bloccato il canale suez a tutti gli effetti gli utis recentemente hanno fatto un accordo strategico con cina e russia tale per cui cina e russia danno un supporto tattico e in cambio gli utis lasciano passare indenni le navi che sono russe e cinesi bloccando tutte le altre e quindi questo di fatto crea un flusso bloccato per l'esportazione europea attraverso canali suez e non fare il giro lungo attraverso girando intorno all'africa e comunque questo non è sufficiente perché gli utis hanno dimostrato grazie anche all'aiuto l'iran di poter proiettare la propria influenza anche nel mar arabico e quindi potenzialmente verso l'oceano indiano ci sono i somali sono pronti da una mano quindi non è così facile circonnavigare anche l'africa di conseguenza questo vuol dire una grossa riduzione delle capacità di esportazione dall'europa verso la cina e invece una sostanziale e limitata possibilità di importare perché i cinesi potranno portare quello che vogliono quindi in pratica se gli europei vorranno vendere cinesi dovranno usare le navi cinesi ai prezzi cinesi e le condizioni cinesi o russe in buona sostanza poi dopo c'è la guerra cibernetica quindi l'attacco cyber informatico su questo campo sono entrambi abbastanza quindi fino adesso abbiamo visto che la nato in vantaggio leggero temporaneamente sul fronte finanziario ma in svantaggio sul fronte economico sul fronte attacco informatico guerra informatica siamo più o meno pari però dobbiamo aspettarci degli attacchi sull'occidente da parte di attori appunto motivati a bloccare le strutture produttive le strutture economiche occidentali anche perché nel momento in cui i russi dichiarano e probabilmente faranno seguito a questa posizione facendo una dichiarazione di guerra ufficiale contro l'ucraina che sono in guerra con l'ucraina sono anche in guerra con tutti coloro che sono cobelligeranti con l'ucraina e laddove non sono pronti naturalmente non sono interessati a invadere l'europa occidentale o a scontrarsi militarmente con la nato e la nato non è interessata a fare altrettanto perché non ha la capacità di farlo in questo momento possono benissimo avviare una guerra di tipo cyber informatico e creare danni all'infrastruttura europea in tal modo e credo che lo faranno perché per loro a questo punto l'europa è sicuramente un nemico non c'è nessun dubbio ok dopodiché abbiamo l'information warfare quindi la propaganda su questo l'occidente è chiaramente in vantaggio però c'è il fatto che le persone credono progressivamente meno ai ministri in media quindi è un vantaggio temporaneo che non avrà molto seguito e la propaganda comunque occidentale ha sempre meno efficacia o quasi più nessuna efficacia su quello che potrebbe essere il sud globale quindi sul resto del mondo poi abbiamo la il sabotaggio negabile quindi operazioni sabotaggio o tipo nostri due o tipo attacchi terroristici dove ciascuno nega l'operato dell'altro e che crea una situazione in cui sia plausibile che possa negare la propria responsabilità anche se però tutto sommato si riesce a capire cosa ci sia dietro e questo vede una sostanziale parità in termini di capacità per cui questo potrebbe essere un filone che si estende vale a dire la guerra in ucraina probabilmente si congelirà in un certo stato dove i russi hanno preso abbastanza territorio da sostanzialmente strangolare l'ucraina e lasciare che muoia gradualmente affondando insieme all'ucraina l'unione europea però poi ci potrebbero essere degli attentati in territorio europeo come ci sono stati in territorio russo e come ci saranno probabilmente anche il livello di allerta sta già aumentando un po in europa chiaramente esatto considerando il fatto che c'è il coinvolgimento nel medio oriente parallelo dopodiché abbiamo naturalmente la guerra biologica l'abbiamo visto col covid quindi siamo già lì entrambi i fronti hanno risorse per poterlo fare abbiamo visto che di fatto i cinesi e gli americani collaborano in questo senso e dopo di che abbiamo le guerre per procura che sono ucraina medio oriente e taiwan questo è il settimo scenario del settimo scenario esatto e su questo fronte sono brics plus e chiaramente in vantaggio perché la nato ha perso in ucraina questo è un fatto israele perderà nel medio oriente non ha possibilità perché si scontra con mezzi convenzionali rispetto a una strategia di guerriglia che vince semplicemente non perdendo quindi fintanto che le forze dei terroristi o come la vogliamo chiamare esbolla piuttosto che amas piuttosto che gli utis riescono a restare operative e non vengono eliminate vincono perché di fatto creano una costante interruzione nell'attività economica ed il resto già risentendo pesantemente di questo tale per cui alla fine la spunteranno e quindi e su taiwan gli stati uniti non hanno la capacità di proiettare capacità militari su tali distanze e riuscire a combinare qualcosa anche perché a differenza di quello che è successo durante la seconda guerra mondiale dove gli stati uniti avevano chiaramente una netta predominanza in termini navali avevano le portaerei che erano novità in termini tattici strategici e quindi potevano proiettare una grossa capacità di fuoco dovunque volevano adesso noi sappiamo che la russia dispone della più grande flotta di sottomarini nucleari e quindi qualsiasi naviglio militare può essere affondato a piacimento e di conseguenza non è possibile proiettare grandi quantità di forza dagli stati uniti fuori al di là degli stati uniti e di conseguenza vediamo che gli stati uniti hanno basi un po ovunque che è un errore strategico abbiamo visto già con i giapponesi i giapponesi hanno perso la seconda guerra mondiale perché avevano occupato un sacco di territori hanno sparpagliati una miriade di isole territori eccetera e il fatto di essere qui sparpagliate alla fine ha diluito le loro forze sono stati sconfitti ha indeboliti di vale esatto quindi questo è questo è un pochino la situazione di conseguenza oggi è chiaro mi sembra che a washington a parte l'attuale amministrazione biden che ideologicamente motiva motivata e quindi non può ammettere di aver perso in ucraina a far di tutto per comunque creare problemi alla russia fin tanto che resta dal potere i poteri forti hanno capito che insistere sull'ucraina in questo momento è perdente anzi il fatto che l'ucraina sia in difficoltà il fatto che l'europa si senta comunque coinvolta voglio in ogni caso partecipare a questa guerra ad oltranza anche in futuro facilita quello che è la trasformazione degli americani vogliono vuole dire che la nato venga spesata sostanzialmente agli europei che l'europa diventi ridimensionata in termini di capacità economiche perché dal loro punto di vista si era legata troppo ai russi e si era legata troppo ai cinesi e quindi stava alimentando di fatto due avversari strategici di conseguenza faceva parte del problema di conseguenza sarà un sistema dove la guerra si sporterà sempre di più sul fronte finanziario perché comunque dove gli stati uniti stanno vincendo e hanno vinto finora e vediamo anche in questo senso il disaccoppiamento del diciamo della federal reserve rispetto al circuito dell'euro dollaro che era gestito che è stato gestito sinora dai britannici e che da settembre di fatto tenerà sostanzialmente progressivamente sotto il controllo americano e quindi vedrà un forte prosciugamento di dollari dalla circolazione e qui entriamo nel famoso trend di del dollarizzazione che per se per certi versi può essere visto in modo negativo per il futuro del dollaro come moneta di scambio internazionale è comunque positivo in questo momento per gli stati uniti perché vuol dire riprendere controllo di una enorme quantità di dollari che erano sfuggiti al controllo di washington e di new york e che diluivano fortemente le capacità di spesa del governo americano che invece bruciando questi dollari ritirando questi dollari può continuare a spendere espandere e ancora per un po' e in più permette di creare una nuova politica del dollaro che in qualche modo anche rimetta al suo posto l'euro che era diventato concorrente e rafforzando lo yen infatti vediamo che lo yen è diventato da un po la seconda valuta riserva internazionale superando l'euro e vediamo che tra cina e stati uniti nonostante tutto c'è un'intesa in questo momento per assisterci reciprocamente sul fronte finanziario i cinesi hanno ancora una grossissima riserva di dollari di titoli dei tesori americani che devono spendere e quindi non vogliono far colare il dollaro sennò anche la loro economia ne risente pesantemente e quindi li stanno spendendo un po per volta soprattutto in investimenti in africa o in america latina investimenti infrastrutturali che permetteranno loro di controllare la guerra economica la guerra agli accessi ai porti ai flussi delle materie prime dove sicuramente l'europa ha già perso completamente non ha chance nel senso che i cinesi hanno una quantità illimitata i dollari che possono arrivare e proporre agli africani per quale motivo gli africani dovrebbero accettare le offerte di bruxelles che hanno quattro spiccioli e che non sappiamo se domani sono ancora quindi nessuno nessuno fa particolare affidamento sul futuro dell'unione europea quindi vediamo questo tipo di strategia e per gli americani va bene perché cosa vuol dire vuol dire che stanno sfruttando questa riduzione è come se usassero una riserva di valore ceduta loro dai cinesi per continuare a mantenere le proprie attività e trasformare la propria economia da un'economia sostanzialmente di importazione a un'economia di produzione interna anche perché sono resi conto e direi che l'ucrana sia stata una sveglia per tutti del resto il rapporto rand già che arriva che gli stati uniti dipendono pesantemente dalla cina per la fornitura di materiale indispensabile per la produzione di armi e quindi è assurdo che dipendessero dal proprio avversario per poter essere competitivi non ha proprio senso di conseguenza per gli americani è indispensabile riportare industrie in america a ricostituire nuove industrie e magari importarle come stanno facendo dalla germania e così detto sono preche industrie che stanno spostando che stanno andando vuoi nei stati uniti vuoi in cina vuoi in voi dove c'è accesso a l'energia a basso costo perché non non è possibile portare avanti un'attività di industria pesante con energia costosa certo senti roberto che considerazione possiamo fare in in chiusura di questa direi importantissima tua reazione che parte voglio dire da un'analisi dei punti principali di questo documento della rand corporation proprio in due minuti cosa possiamo come possiamo chiudere voglio dire questa a questa analisi e faccio uno spot pubblicitario ti vedo ti vedo ti vedo con un sorriso sornione prego studiate bitcoin perché si è ora è finito l'euro non ha possibilità di sopravvivere anche i corsi ci sono pochi corsi anche di bitcoin alla regione si chiama la regione di bitcoin e per tutti i nostri amici ascoltatori basta andare all'interno del sito www mazzoni news puntocom dove ci saranno tutte le spiegazioni e per questo aspetto che diventerà assolutamente essenziale sì perché la grossa differenza che oggi vedo tra l'establishment finanziario americano e stablishment finanziario europeo e che mi fa capire che gli europei non hanno proprio capito cioè gli europei di bruxelles europei di francoforte oppure hanno capito e fanno finta niente è che laddove da bruxelles stanno cercando di limitare l'accesso a bitcoin e di nuovo io non fornisco il consiglio investimento a quello che invito è documentate le imparate stanno bloccando l'accesso a vostri ti invece l'hanno adottato a piene mani black rock ha lanciato questa questo fondo di investimento insieme ad altre dieci aziende e sta avendo un risultato clamoroso e black rock addirittura ha annunciato che lancerà il proprio token quindi lancerà la propria versione probabilmente di dollaro digitale e che sarà in concorrenza magari addirittura con la federa riserva quindi negli stati uniti vediamo un grosso cambiamento un riassetto di pesi dove hanno capito che l'oro sta migrando pesantemente verso est perché cina e russia hanno smesso di comprare da tempo anche l'arrabia saudita hanno smesso di acquisire da tempo titoli stati americani a garanzia e quindi stanno comprando oro in grande quantità che viene dove viene dall'occidente l'oro è quello che è quindi si trasferisce dall'occidente verso l'oriente e parallelamente nessuno è interessato a tenere euro perché cosa se ne fanno nel senso non si capisce l'euro è un derivato in qualche modo un collo gato collegato al sistema dell'euro dollaro nel momento in cui gli americani vogliono prosciugare il sistema dell'euro dollaro perché devono riportare i dollari in casa per finanziare le proprie attività l'euro non ha motivo di continuare ad esistere sì lo terreno in vita a termine insomma ecco dai esattamente e purtroppo le scelte di bruxelles barra francoforte vanno esattamente in quella direzione per cui per gli americani sono felici e sono contentissimi per cui infatti vediamo che l'economia americana sta andando alla grande credo che abbiano esportato 250 miliardi di armi all'europa durante il periodo della guerra in ucraina e le esportazioni sono destinate soltanto ad aumentare quindi vuol dire che posto di lavoro fatturato per l'america è in crescita chiarissimo chiarissimo quindi mi viene da mi viene da considerare da valutare bene insomma cosa fare le elezioni di giugno qui alle europee ammesso che possa servire qualcosa ecco vista vista la classe vista la classe che implicitamente no hai commentato senza dirlo che la classe politica che come cia dove ci ha condotto da valutare molto bene ma molto bene cosa fare a giugno e chi votare e chi no direi e roberto siamo in conclusione io ribadisco è stata una disamina questa qui da ascoltare e riascoltare perché ci fornisce proprio una visione molto molto ampia su cui anche riflettere prima di tutto ognuno ognuno di noi e caro roberto ti ringrazio noi ci diamo appuntamento al mese prossimo visto che ho il piacere di abbiamo tutti noi basi pandora e tutti i nostri amici scaldatori hanno il piacere l'opportunità di ascoltare le tue analisi noi ci diamo appuntamento ad aprile sicuramente nel frattempo buona pasqua buona pasqua buona pasqua a te e grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori